Oh, abbiamo un bel pacco da Riot oggi, dato che il 10 dicembre in Europa è uscita la versione Android League of Legends, Wild Rift, c'è un kit che ci è stato inviato, solo che non so che cosa contenga, fammi togliere l'indirizzo, prima cosa, e finalmente possiamo, tipo ho già aperto mezza scatola, togliendo l'indirizzo, gioca a LOL dove vuoi, Questa è la maniera delicata per dire, quando vai in magna puoi delicatamente giocare a LOL, che poi, curiosità, io non gioco a LOL, però ho un team di LOL che a quanto pare spacca tantissimo Ti dicono che è forte No, 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 è forte, faccio fargli gli scherzi, no, no, non scherziamo, i Rakuten sono forti, ragazzi Lo scotch è maledetto quando è messo in questa maniera, oh, è arrivato tipo aria plasticosa, mi ha intossicato, Jinx, ecco, vediamo, com'è? Kit di Wild Rift, ok, prepara il tuo nuovo setup, vediamo Non so, sono curioso effettivamente Non sto capendo perché c'è Dell'aloe Ecco, il telefono, l'aloe in bagno Seconda dead flag Poi, disponibile Ma ci stanno trollando Infatti Cioè, io l'ho detto per scherzo, per il bagno L'aloe, cioè, non capisco perché, a parte che scrive, cioè, coreano Per prenderti cura della tua pelle Ma è veramente un kit di... per il bagno Allora, c'è l'asciugamani Ti prego, dimmi che brandizzato Si, ho visto una scritta Ah, ecco League of Legends, Wild Rift E infatti, ecco, mi hai capito perché sono rimasto sommerso da questo odore quando ho aperto il pacco Allora, c'è questo Poi c'è La candela League of Legends, Wild Rift Poi c'è Ah no, c'era il biglietto sotto 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 Che dice, vabbè, c'è la scritta Praticamente League of Legends Prenditi un quarto d'ora per te con League of Legends, Wild Rift Scaricatelo gratuitamente a tuo dispositivo Scegli il tuo campione e parti la conquista della landa degli Evocatori Ecco qui tutto l'occorrente per conderti al massimo in questi 15 minuti o poco più di divertimento Team Riot Poi Madonna, ho un bruttissimo presentimento Cioè, avvicinati Sai cos'è in realtà? E' una cosa che userò subito Cesso RGB Cioè, io scherzavo all'inizio Ma in realtà l'ho fatto seriamente E qui, questo ho capito cos'è, solo a sentirlo Una Bat Bomb Di Lush, tra l'altro Con i colori appunto del Eh, sarà la Galaxy E infatti Come mai sei così esperto dei prodotti Lush? Siamo a Natale Cioè Giustamente Oh, la Bat Bomb di Lush E questo è tutto Qui c'ho la polverina magica Che Ecco cos'è che mi assomera E infatti vedi è rimasto tutto il La magia Ma non a terra Torna e non lo so Vabbè, intanto puliremo Devo ammettere, mi ha sorpreso questo pack Oh, però è divertente come cosa C'è essere GP probabilmente la cosa più OP L'Aloe non Rimane sempre quell'ambiguo Che non voglio sapere Questa è una cosa geniale Soprattutto la prima cosa che penso verrà utilizzata È l'asciugamani di League of Legends E con gli asciugamani abbiamo un rapporto un po' strano Nel senso che abbiamo quello appunto di Zombieland Saga C'è quello del Tokyo Game Show Poi abbiamo Beh, altri tipi di asciugamani un po' così E niente Comunque è stato un pensiero molto simpatico E anche Originale Dato che si tratta di una versione Mobile Di League of Legends E niente Siamo contenti Io sto continuando a respirare sta roba E penso che ho i polmoni Brillantinanti adesso E niente Godiamoci questa bella roba E alla prossima Ciao